Il blocco a saldare In schiera 1 abbiamo bloccato la strada davanti al sospetto Attenzione a tutte le unità, il seguimento a priorità 5, ripeto, priorità 5 Cazzo Cerchiamo di bloccarlo, pronti a muoversi Non si è fermato, torno su di lui Cerchiamo di fermarlo scendendo di fuoco, arrestati in attesa Idiota, portate il blocco Qui 4.23, si sono in alto in calcolo e sarà da questa parte Abbiamo chiuso la via di fuga A presto a restare in attesa 10.75 notte E' appena passato nel distributore di benzina A presto di vista il sospetto, restate in attesa Andiamo in ultima comunicazione, l'ho trovato Calma ragazzi, sto autorizzando il 10.75 Aspettate la mia chiamata Ha sfondato il blocco stradale 10.33, questo è un 10.33, mandate l'altra unità Arriveranno per un minuto Il veicolo ha sfondato il blocco stradale Disfruttore di un quadrante, il sospetto potrebbe essere in zona Le unità rimangono in codice 6, chino a ulteriori comunicazioni Sì, è di nuovo in vista, sono un quadrante 3 Codice 6 verso, ritardo minimo Faccio in versione per vedere se l'ho superato Rimanete in attesa Di nuovo dietro, l'abbiamo ripreso Il codice 6 non sta arrollando, non fate fuori strada Bene, non potete muovere, non potete muovere, sto arredando Incidente, incidente Unità perduta Il sospetto ci ha appena superati, codice 3 Questo vado a lungo, per aprivo l'altra mia casa Vediamo se riusciamo a l'arrettato Riuscite oltre a passarlo Unità alle 24, la strada davanti al sospetto è sbarata Grazie a tutti